SONO SONO Babe, ha funzionato! Si è attivata l'energia secondaria e l'esecuzione è sospesa. Ma è scoppiata una rivolta. Ottimo, una copertura perfetta. Ma se prendi il chieno sparando tu... Non preoccuparti, me la caverò. Chiudo. 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 Ehi! Gli streliai! Gabe! C'è qualcun altro qui! Ho trovato un gruppo di guardie uccise! Non potrebbero essere prigionieri. No, questa è un'area riservata. La maggior parte dei rivoltosi sono nelle aree con le celle. I russi dicono di non sapere di nessun altro al lavoro lì dentro. Guardati le spalle. Sì, come sempre. Chiudo. Niente! Lei ha ubiato Sergio e Kirilla! Chiudi! Mara! Gregoraf! Lianxin! Gregoraf! Che ci faceva Mara qui? Sì, Mara Aramov era qui per assistere all'esecuzione. Ma è andata via quando è mancata l'energia. Io... Veramente... Io... Non capisco. Nemmeno io, Uri. Ma non c'è tempo. Dobbiamo arrivare in cima al muro. Ho due bombole d'ossigeno alla fine del fiume. Ok, va bene. Ma tu non mi sembri a posto, Lianxin. Cosa stai... Sto bene, non preoccuparti. Ti spiegherò tutto quando saremo fuori di qui. Andiamo. Lian! Dietro di te! Uri! Puoi combattere! Non ce la faccio. Sono ferito. D'accordo. Allora rimani dietro di me. Muoviti solo quando te lo dico io, capito? Da! Via libera! Uri! Muoviti! 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 Chiudo! Ho sentito del movimento dietro questa porta. La rivolta deve essere scoppiata proprio nei blocchi con le celle. Vado a vedere. Aspetta qui. Cecchini, indietro! Ci sono almeno una dozzina di cecchini lungo le mura. Dobbiamo trovare un'altra via d'uscita. Non c'è nessun'altra via. Allora siamo nei guai. Forse questa potrebbe aiutare. Una granata fumogene. Dove diavola? L'ho presa ad una guardia morta. Ok, allora. Quando te lo dico, lancia la granata. Poi chiudi gli occhi, trattieni il respiro e corri come non hai mai fatto. Io sarò dietro di te, non preoccuparti. E non fermarti finché non avrai passato tutto il blocco. Intesi? Da. Pronto? Ok, lancia! Vai! Vai! Perché ti sei fermato? Il cancello è chiuso. Puoi sparare alla serratura da qui? Ah, ne so. Gran colpo! Ora andiamo! Siamo azzat! Azzat! Credo abbiano perso il controllo della situazione. Bisogna convincerle che siamo dalla loro parte. Tu non sei ovviamente una prigioniera. Ed io sono un uomo. Non credo che ci saranno a sentire. Allora dobbiamo trovare un metodo per passare oltre. Ho perso la balestra quando è mancata l'energia. Devo trovare qualcos'altro. Tu aspetta qui. Allora dobbiamo trovare un metodo per passare. Ah, molto bene. Ora possiamo uscire da qui. Allora dobbiamo trovare un metodo per passare. Grazie a tutti. Lian, torna da Gregorov. Via libera? Ok, prendi questa. Ora credo che puoi farcela combattere. Rimani vicino a me, ormai siamo quasi fuori. Ti seguo con me un'ombra. Muori, basterdo! Dietro di noi! Ok, dobbiamo salire su quel muro. Stai... Stai vicino a me. Siamo quasi fuori. Tu come stai? Non preoccuparti per me. Sei pronto? Pronto. Quando vuoi. Stai vicino a me, ormai siamo fuori. Stai vicino a me, ormai siamo fuori. Stai vicino a me. Graci. write Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. In bocca al lupo a entrambi. Io ho una guerra da fermare. Non ha ancora Liangxing. E non ha nemmeno la fase 2 del virus. Le pare che sia normale? No, ma abbiamo avuto... Ho saltato le date fissate per la consegna, Mr. Stevens. Presto potrebbe non servirci più. La prenderemo prima possibile. Sa che Logan ha Gregoraf? È impossibile. La signora Aramoff dovrebbe aver sistemato Gregoraf. Le dico che Logan ha Gregoraf. Ma non è un problema. Logan cercherà di usare i data disk di Fagan per ottenere il vaccino. Quando lo farà, prenderemo la donna. Sono preoccupato, Mr. Stevens. Lei non è stato utile quanto speravo. Ormai li abbiamo. È solo una questione di tempo. Il tempo scarseggia, Mr. Stevens. Non mi deluda ancora.